Le finestre osse sono normali. Controlliamo se ci sono neoplasie polmonari. Di un po', chi conosci che si sia suicidato? Hemingway, Goebbels, Romeo e Giulietta. Tua madre, tuo padre. Se dico che non lo farei mai, è perché qualcuno della mia famiglia si è suicidato? No, ma insistere categoricamente come fai tu significa avere alle spalle un tradimento, un abbandono. Solo perché sei cresciuto in un romanzo di Charles Dickens non vuol dire... E' come me che non lo fa. Quando la tua vita fa schifo dall'inizio, puoi solo migliorare. Il torace è pulito, niente neanche nei polmoni. L'unico tradimento viene da quel padre esemplare. Ha una moglie e un figlio che contano sul fatto che lui sia forte. Ok. Passo all'alta definizione dell'addome. I miei genitori vivono felici nel Queens e non hanno mai cercato e neanche lontanamente pensato di commettere... Che c'è? Là. Guarda sul diaframma. Non è cancro. Non è cancro.